Rientra tra quelli che la provincia di Cosenza ha donato ai comuni il defibrillatore che stamane è stato consegnato dall'ente di Tortora ai volontari della Croce Rossa Italiana del Tirreno-Cosentino, uno strumento salvavita indispensabile che il sindaco Pasquale Lamboglia, grazie anche all'interessamento dell'assessorata alle politiche sociali del comune, Anna Fondacaro, ha voluto donare. Speriamo di dare il nostro contributo in questo modo a un'unità operativa da anni sul territorio, molto attenta a questo tipo di problematiche, ormai sappiamo essere molto alta l'incidenza di morti per arresto cardiaco e quindi tanto importante l'attenzione alla sensibilizzazione, alla formazione dei volontari, cosa che fa appunto la Croce Rossa e soprattutto a un'adeguata preparazione. E i volontari della Croce Rossa Italiana del Tirreno-Cosentino ringraziano per la sensibilità dimostrata dall'amministrazione, proprio da Tortora il commissario del comitato CRI, Luigi De Luca, invita anche gli altri comuni a seguire l'esempio. Noi ringraziamo l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Lamboglia per la sensibilità dimostrata, così come lo ringraziamo per aver scelto la nostra associazione. Un'associazione che lavora con costanza e come usiamo dire noi nel silenzio, senza tanta pubblicità. Giusto, noi parliamo con i dati alla mano. Tra l'anno 2014 e l'anno 2015 la Croce Rossa Italiana dell'Alto Tirreno-Cosentino, con i propri istruttori, ha formato circa 100 cittadini all'uso del defibrillatore e alle manovre di rianimazione. Così come sui circa 200 soci che convongono il nostro comitato di Croce Rossa, più della metà dei volontari sono adibiti e pronti a usare il defibrillatore. Quindi io ritengo che il territorio sia abbastanza protetto da questo punto di vista. Forse quello che manca è proprio lo strumento fondamentale, che è il defibrillatore. E su questo abbiamo molto lavoro da fare perché ancora dobbiamo sensibilizzare non solo le amministrazioni comunali, ma anche altri cittadini. Mi riferisco soprattutto agli operatori balneari, alle palestre, insomma in tutte quelle attività dove può esserci un ritrovo di persone.